Abbiamo Alessandro Tui, autore del secondo gol, quello che ha consentito alla squadra giallorossa di conquistare i tre punti dopo una sconfitta che bruciava quella col Milan e soprattutto io credo che tu Alessandro avevi proprio voglia di cancellarla in fretta la sfida col Milan. Sì, sicuramente, non è stata una delle partite più brillanti la scorsa, fortunatamente si giocava ogni tre giorni e abbiamo rimosso più in fretta quello che è stata la partita scorsa. Oggi credo che ci sia stato un grande benevento, nonostante l'inizio non siamo stati, secondo me non abbiamo avuto un approccio ottimale però comunque siamo sempre stati in campo messi molto bene e poi alla fine abbiamo vinto una partita importantissima. Sì, perché in effetti dopo il secondo gol vostro effettivamente era normale che il Cagliari provasse ad accelerare acquistando centimetri, però poi insomma è stata sempre una partita sotto il controllo vostro. Sì, loro vengono da un periodo un po' lungo diciamo che non portano i tre punti a casa quindi ci aspettavamo una squadra molto battagliera quindi eravamo preparati da questo punto di vista dopo il 2-1 comunque siamo stati molto bravi a tenere botta e la loro voglia di ribaltare la situazione abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per l'andamento del nostro campionato. Ultima come stai, cosa importante perché hai avuto un problemino? Sì, spero nulla di grave, sento un po' di fastidio ma spero che non sia nulla di grave. Ben trovato e complimenti per il gol e per la prestazione. Ti chiedo, noi siamo molto legati ai moduli però da difendere a 4, passare poi a 3 è diverso e questa squadra mostra sempre più step di crescita anche in quest'ottica. Che dici? Sì, sì, assolutamente. Abbiamo trovato una quadratura adesso con la difesa a 4 ma poi sembrano frasi fatte ma è sempre l'approccio che si ha, il modulo c'entra relativamente perché poi anche se la difesa a 3 la proviamo proprio sporadicamente però quando ci mettiamo a 3 siamo sempre comunque molto efficaci quindi i moduli lasciano il tempo che trovano, è l'impronta che diamo noi calciatori sul campo che poi conta realmente. L'atteggiamento in una sfida non è semplicissimo, il Benevento lo fa bene. Billy Nuzzolillo. Ciao Ale, innanzitutto complimenti per la rete, la tua prima rete nel campionato di Serie A credo che sia una soddisfazione meritata anche perché magari ti portavi dentro un po' il rammarico per l'azione del rigore nella partita con il Milan l'hai prontamente cancellato con un gol pesantissimo che vale i tre punti. Sì, sì, è vero, in cuor mio so che quando si fanno gli errori devono essere valutati ed eliminati e cercare di non commetterli più, quindi il gol è stato forse qualcosina in più di quello che mi aspettavo per cancellare, mi aspettavo una prestazione sicuramente diversa da quella del Milan da parte mia poi il gol è stata la ciliegina sulla torta. Gennaro Jezzo. Ciao Alessandro, complimenti per il gol. Volevo sapere quanta rabbia c'era in quel colpo di testa? Quanta rabbia e quanta cattiveria? Perché ti ho visto esultare con rabbia. Sì, sì, assolutamente io lì per lì non me ne sono reso conto per rivedendo le immagini mi sono proprio reso conto che c'è stata come se mi fossi tolto dalle spalle un peso enorme quindi sono felicissimo, probabilmente non me ne rendo ancora conto che è stato un gol da tre punti molto importante però voglio godermi questo momento per poco tempo ovviamente perché il sabato si gioca già però ecco mi godo questa giornata che sarà da ricordare per me. Gennaro? Dobbiamo dire che è stato un gol non facile perché ti sei inarcato, sei andato a prendere quella palla quasi dietro e sei riuscito a piazzarla per raccontarla alla gente a casa che non è proprio facile far gol così. Sì, è vero, quando ho visto Roby che rientrava sul sinistro ho cercato subito di attaccare la zona centrale e poi c'è stata anche una bella torsione, poi ho visto che toccava il palo ho detto no, non è possibile non ho fatto gol e invece poi dopo il palo è entrata in rete. Sonia, a te. Sì, allora ultimissima, chiaramente insomma la difesa non se la sta passando bene in termini di infortuni quest'oggi però nella nota positiva rivedere il capitano, capitano Maggio in campo. Sì, sicuramente, Cristian ha subito questo infortunio purtroppo che l'ha tenuto fuori dal campo troppo tempo e oggi rivederlo tra di noi è stato soprattutto un piacere perché Cristian poi anche dal punto di vista umano oltre che quello tecnico ci dà sempre molto.